La scuola è nostra, i diritti sono nostri, non sono né delle banche, né di monti, né di profumo, né della famiglia. Non sono i studenti che dobbiamo essere in prima linea, perché queste idee hanno colpito tutti gli enti, ma siamo noi, siamo noi quelli più colpiti, siamo noi che siamo quelli senza futuro, siamo noi quelli che dovremmo rappresentare l'interno settore. Noi non siamo servi di nessuno. Allora perché si continuano ad aumentare i finanziamenti per quanto riguarda la corsa agli armamenti? Perché si continuano ad aumentare i finanziamenti per le scuole private? E soprattutto perché si continuano ad riversare milioni e milioni di euro a senatori? Ma non siamo gente che bolla! Non sono il rischio di cariati, il liceo in particolare sarà un segnale forte a questo volimento. Noi non sono. Noi non sono i soreisso. Grazie. Noi non sono i miei. questa manifestazione sarà soltanto un punto di inizio da qui partiamo in show per le nuove manifestazioni perché davvero con la scuola, la scuola italiana deve entrare in modo decisivo in questa preparazione, a realizzare qualcosa di importante facciamoci sentire ragazzi, insorgiamo e riprendiamoci ciò che è nostro davvero, grazie